fratelli juventini e sorelle juventine vi ricordate quella trasmissione di raimondo e alessandra che noia che barba che barba che noia casa vianello ecco se andiamo a metterci nel mondo del calcio fortunatamente io ho una marea di impegni e una marea di passioni altrimenti se fosse per il calcio anche io direi che noia che barba che barba che noia perché sinceramente come vedete alle mie spalle da quel giorno meraviglioso in cui alzammo la coppa del mondo a berlino dopo il premio che ci fu dato soprattutto noi delle juventus rientro appunto dalla grande carmes calcistica ovvero ci hanno sbattuto inopinatamente in serie b io non ho più seguito le nazionali e non le seguirò mai più io non le seguirò mai più non mi interessa se venite a dirmi non hai l'amor patrio a parte che un paese come questo dove la gente si è fatta i cazzi suoi non ha rispettato le regole hanno negato che esisteva addirittura questa questa pandemia adesso abbiamo visto i risultati praticamente dopo neanche quattro mesi siamo ritornati appunto da capo perché se non è un nuovo lockdown questo non so come lo chiamate voi io domani avevo ospiti cari amici a cui mando un abbraccio nicola ci ti saluto nicola giulio francesca francesco e simona ai quali mando un grande abbraccio purtroppo non possono venire per un motivo molto semplice non vivono a parma vivono in emilia romagna nonostante l'emilia romagna non sia zona rossa non possono venire e io incolpo chi incolpo quegli imbecilli tutti quegli idioti che non hanno rispettato la semplice regola di mettersi la mascherina quando erano a contatto con gli altri perché io in casa non me la metto in auto da solo non me la metto chiaramente me la metto solo quando vado nel parco col cane sono da solo non me la metto la tengo bassa se incontro una persona o mi imbatto una persona me la sollevo non mi è venuto né l'artrite né non mi è venuta insufficienza respiratoria non ho avuto le paturnie non ho avuto la non ho avuto la dissenteria non ho avuto la depressione niente perché le regole vorrebbero rispettate purtroppo viviamo in un paese in cui le regole non vengono rispettate ma storicamente questo non vengono rispettate i giovani sono ancora peggio dei loro genitori quindi rispettano ancora meno io poi presto farò un video perché sapete parlare dice sono capaci tutti non presto io sto raccogliendo le immagini farò un video non su questo canale perché qui parlerò solo di juventus sull'altro sul project dove vi farò vedere come i giovani d'oggi rispettano le regole sto raccogliendo materiali video quando poi avrò tutto l'insieme tutto l'insieme una cosa che ho iniziato a fare da settembre vi farò un bel video dove facciamo vedere proprio con i dati di fatto non si vedono volti quindi non c'è rischio di violare nessuna privacy vi farò vedere cosa fanno i giovani d'oggi poi dopo non lamentatevi se questi qua fanno quello che vogliono vanno in giro e poi ovviamente loro essendo giovani se ne sbattono se uno di 60 70 80 anni anche se suo nonno muore giusto o se suo papà o se suo zio se suo cugino non ne frega niente perché loro l'importante loro non fare un cazzo dalla mattina alla sera divertirsi ed essere mantenuti dei genitori che li foraggiano a forza di telefonini di smartphone di soldi di aperitivi se stronzate perché ragazzi nella vita ci sono anche cose importanti non soltanto le stronzate ecco per esempio stronzate per me le nazionali di calcio sono diventate una stronzata già non mi piacevano più dopo il 2006 quando ci hanno sbattuto in serie b adesso che dovrebbero cercare di centelinare i movimenti di spostamenti dei giocatori la famosissima bolla calcistica di cui abbiamo parlato in un altro video ai tempi di juventus napoli per fare una specie di escursus cronologico e temporale adesso noi abbiamo le nazionali dove i giocatori vengono vanno partono fanno prendono aerei si spostano cose così no ovviamente a diaspora sapete no che cosa vuol dire la diaspora no uno va qua uno va là uno va qui uno va là non che tutti quelli della juve vanno nello stesso punto per cui cosa succede succede che i nazionali interessano pensano a poca ma nessuno noi che seguiamo la juventus noi juventini vorremmo vedere la juventus gli interisti vorrebbero vedere l'inter i milanisti vorrebbero vedere il mina i napoletani il napoli la roma i romani da roma e vi discorrendo purtroppo ci sono i nazionali che stanno disputando dei tornei insulsi senza senso la nation league che ripeto l'ho detto più volte è la stregua della international champions cup che c'è l'estate cioè dei tornei niente più niente meno del birra moretti del trofeo team mi scuso per aver pubblicizzato due prodotti che non uso né team né moretti però però noi abbiamo le nazionali le nazionali sono molto importanti sono molto importanti così poi magari ci ritornano due o tre contagiati un paio di infortunati perché chiaro no chiaro chi è che ci rimette più di tutti nelle nazionali le squadre che hanno molti nazionali qual è la squadra una delle squadre in europa che ha più nazionali in giro per il mondo la juventus perché a parte quelli che sono o infortunati già in maniera pregressa o quelli che per motivi diciamo di non convocazione non sono stati chiamati sono tutti nazionali per cui per cui noi non soltanto corriamo rischio che questi si vadano a contagiare creando un grande danno per i club oltretutto rischiamo anche che si facciano male creando un ulteriore danno al club come se non bastasse ne ho parlato nel video di ieri non abbiamo la sufficienza di infortuni ci manca più che se ne ritornino anche infortunati delle nazionali per cui questo mio video ormai canonico che voi sapete che io ci metto sempre dentro quando c'è la pausa dove sinceramente faccio fatica perché chi mi conosce sa che le notizie non me le invento come fanno altri quindi non ci sono notizie importanti da darvi se non che ronaldo sta pensando seriamente di andarsene al pari san germain a fine stagione dove la juventus sta seriamente pensando di cedere al real madrid perché piace molto a peres giovinco anche se lui vorrebbe andare al barcellona però ripeto la juventus ha già una specie di bozza d'accordo con ieri al madrid e dare al madrid dovrebbero arrivare almeno in un paio di giocatori per il resto altre notizie non ce ne sono pierlo sta provando i suoi schemi speriamo che prima o poi ne trovi uno definitivo perché quando cambi troppi schemi storicamente il calcio ti insegna anche non vinci niente cambiare troppo non va bene non ne sto facendo una colpa però deve anche muoversi perché ormai siamo già sotto natale quindi deve cercare di muoversi e quindi qua noi siamo qua io la nazionale non la seguo non l'ho seguita mi sembra che giochi con la polonia non so quando sono sincero oggi vi faccio un esempio stupido mio padre mi ha telefonato perché lui non avendo il computer non avendo internet non so le cose mi ha chiesto quando gioca io sono sincero non lo so gli ho risposto papà non lo so se vuoi ci guardo sul tele sul computer sul telefonino fa no no non ti preoccupare dopo lo scoprirò dopo non ho la che fare idea di quando giocare all'italia unica cosa che so è che gioca contro la polonia perché abbiamo il portiere che è titolare della squadra appunto polacca quindi solo per quello so che giochiamo contro la polonia per cui signori io sono molto come potrei dire devo trovare un termine esatto perché usare il termine parmigiano non è magari tanto 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 corretto sono molto svogliato neanche sono proprio così a schifato forse esagerato ma proprio a me le nazionali per me fanno solo danni noi paghiamo i giocatori noi parlo società paghiamo i giocatori fiori di quattrini poi ce li restituiscono contaminati perché non bastavano infortuni adesso c'è anche il rischio contaminazione covi per cui francamente io veramente c'è se un giorno dovesse dovessero comunicare che le nazionali vengono abolite io sarei più felice del mondo perché sinceramente a me nel fatto che l'italia abbia 1 2 3 4 5 6 7 mondiali 1 2 3 4 5 europei non me ne può fregare di meno sinceramente proprio ma non me ne frega niente io sono la mia nazionale è la juventus il mio tifo è per la juventus il mio sangue è bianco nero i miei colori sono il bianco nero non sono nell'azzurro nel giallo nel rosso nel verde nel marrone nel calcio esiste solo la juve la juve ha dato molto alle nazionali molto molto perché se voi guardate le formazioni del 30 del 34 dell 82 del 2006 ci sono molti juventini quanto ha dato la nazionale a noi poco anzi ci ha tolto ci hanno sbattuto in serie b quindi io dal 2006 non amerò più le nazionali italiane non amerò mai più il calcio delle nazionali e non guarderò né gli europei né i mondiali fino alla fine forza juve forever and ever uber alles ragazzi basta basta le nazionali ciao buona domenica ciao ciao